Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Quartier Master General, un gioco ambientato in seconda guerra mondiale, nuova edizione a cura della versione inglese dell'Ares e la versione italiana a cura di Genos Games, che io ringrazio veramente di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione. Grazie immensamente, è sempre un piacere e un onore collaborare con voi. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Quartier Master General, in questa nuova edizione anche un po' rivista della Genos Games, è un gioco famoso perché è un gioco strategico ma molto veloce, ricorda un po' l'idea principale, come tutti questi giochi ricordano sempre il punto di partenza che è in comune per tutti, che è il risico. E qui anche l'idea col fatto che ci sono dentro i meeple per le armate da spostare sul campo di battaglia, che poi c'è tutto il panorama della seconda guerra mondiale, sia l'Europa che ovviamente anche la guerra del Pacifico. assi e contralleati e c'è sempre lo spostamento sulla mappa, quindi un po' le meccaniche lo ricordano il risico. Però questo è bellino perché è profondo, a parte spostare le truppe e dovrete creare, che poi vado a spiegare, delle zone di rifornimento, che ha una meccanica molto carina e che funziona molto bene, devo dire la verità. Quando leggevo il manuale ci sono rimasto un po' così. Però poi dopo ho detto, cavolo, invece è una grandissima figata. E poi, altra cosa importante, ci sono ogni nazione al suo mazzo di carte, tipo che ne so, il Giappone ha la sua, la Germania uguale al suo mazzo di carte, personalizzate che sono differenti e quindi ogni nazione non è che più forte rispetto a un'altra, no, il gioco è molto bilanciato. Però comunque ognuno ha il suo mazzo di carte particolari che possono usare solo loro, quindi non c'è un pool comune da dove pescare. È un gioco veramente veloce, veramente interessante, ma anche di una certa profondità strategica. Veramente, veramente, veramente consigliato a tutti gli amanti della Seconda Guerra Mondiale, ma poi ovviamente la valutazione ve la do alla fine. Ma prima di tutto, unboxing! Questa è la confezione del gioco, abbastanza grande, vedete, nelle versioni italiane e inglesi, ed è veramente molto, molto bella come scatola, molto evocativa. E poi vedete, edizione italiana, se non erro dovrebbe essere una seconda edizione o una revisione. Comunque, apriamo. Regolamento di gioco, che come veramente, vi ho detto, qui ci sono tutte e quante le nazioni con le regole, sono veramente delle cavolate disumane. Tre nazioni per l'asse, purtroppo a noi si era con l'asse, vi ricordo. E tre nazioni invece per gli alleati. Quindi un regolamento di facile lettura, insomma, veramente molto, molto facile. Una plancettina, che ci ricorda il turno di gioco più i punti, vedete, perché comunque giocate come nazione, giocate come alleanze, o vincete o perdete come alleanze. Poi c'è il tabellone di gioco, che tanto ora poi a breve vi faccio vedere aperto, bello grande, con i segnapunti che fa giro, e ovviamente tutto quanto il mondo, cioè sia, ve l'ho detto, la guerra in Europa che nel Pacifico. E come vedete ci sono le zone di porto, degli stretti, e in più ci sono le zone con le stelline, che sono le zone di rifornimento. Immancabili Meeple, che sono carrarmatini, e qui ci vorrei fare veramente un pimp my board game più avanti, e corazzate navi per le nazioni, e più ragazzi, tutti quanti i mazzi delle carte. Quindi Regno Unito, Germania, Unione Sovietica, Stati Uniti, Giappone, e l'Italia ci hanno messi sotto, nemmeno accanto, ci hanno nascosti. Lo svolgimento del gioco, ovviamente vi do sempre una visione generale, non faccio più tutorial, però magari faremo qualche partita gameplay, così da farvi vedere un pochino meglio le meccaniche. Comunque, l'idea del gioco è quello che abbiamo l'Europa, e ovviamente il panorama del Pacifico, e è molto semplice, perché l'hanno voluto fare bellino e veloce, ma anche profondo come tattica, perché voi partirete in delle zone sulla mappa, che praticamente, ah sentite un po' di rumori la stampante che lavora giorno e notte, dove ci sono delle stelline. Queste stelline qui stanno a significare non solo il punto di partenza delle nazioni, appunto dell'asse e degli alleati, ma vedete che ci sono anche altre stelline in giro per la mappa, che sono dei punti di rifornimento. E l'idea principale di questo gioco è bellina, perché voi non potete andare a mettere, a costruire una truppa dove volete. Deve essere soprattutto collegata ad un punto di rifornimento, e a una truppa che avete precedentemente posizionato. Quindi se io voglio posizionare una truppa, in una nazione adiacente, in un punto adiacente, ci deve essere un'altra truppa, e tutte quante le truppe, facendo una specie di cordone, devono arrivare fino a una stellina, che è un punto di rifornimento, e non deve essere la nazione di partenza dello spawn, ma può essere qualsiasi altro punto. Se avete conquistato un punto con una stellina, potete costruire truppe tutte concatenate, che arrivano fino al mare, perché poi anche le navi seguono le stesse regole. devono essere in mare, alimentate ovviamente da un cordone, ve l'ho detto, di rifornimento, e soprattutto dovete tenerle sempre vicine a una sponda conquistata da voi. Quindi se la nave in mezzo al mare è sulla sponda di una nazione, dove c'è un'unità nemica, quella nave lì non può stare, perché poi a fine del turno di gioco, tutte quante le unità, sia di terra, quelle di aria non ci sono comunque, sia di terra che di acqua, che non vengono rifornite, vengono proprio rimosse dal gioco. Sono staffe che hanno finito il rifornimento, sono rimaste senza provisioni, senza carburante, quindi immaginatevi questa colonna di mezzi, che ne so, americani, che rimangono fermi in mezzo al campo e vengono decimati, oppure semplicemente finiscono fuori dalla battaglia. Ed è una figata unica, perché più di fare guerra è una nazione, dovete andare a interrompere la linea di rifornimenti, ed è una cosa molto carina. Poi ci sono lette regole del tipo che potete giocare carte, sia per fare un'azione, che in reazione all'azione di un altro giocatore, quindi una carta giocata a faccia all'insù, è una carta azione a faccia all'ingiù, invece è una carta a reazione. E poi è bellino, tipo ci sono gli stretti, tipo lo stretto di Gibilterra, che per poterlo utilizzare, per poterci passare, o attaccare una truppa che è dall'altra parte, dovete averlo conquistato. Quindi la nave ci può passare, solo se la vostra nazione ha conquistato, la vostra alleanza, ha conquistato lo stretto di Gibilterra, se no non vi ci potete muovere, perché viene chiuso, o viene comunque bloccato dalle navi della flotta nemica. Quindi come vedete, la strategia c'è, lo spessore c'è, e poi ovviamente anche qui è la guerra, il punteggio, chi fa più punti ha vinto. Quindi come regolamento, come visione principale, è un gioco molto semplice, te non puoi andare a costruire truppe, dove ti pare a te, non ci sono territori conquistati, i territori conquistati sono quelli dove hai almeno una truppa dentro, e soprattutto, cosa importante, puoi costruire soltanto in zone collegate e rifornite, perché se ti vai a costruire un pezzo davanti a un altro cararmatino, in un'azione confinante, e quel cararmatino lì non è rifornito, non lo puoi costruire, e in più quel cararmatino lì non è rifornito, a fine del tuo turno, o della tua alleanza, verrà rimosso, perché tutte quante le cose non collegate, a un punto di rifornimento, vengono tolte. Quindi come vedete, come gioco è veramente semplicissimo, alla portata di tutti. In parole povere, ragazzi, questa era più o meno l'idea del gioco. Questo Quartier Master General World War II è molto interessante, perché, ve l'ho detto, è alla portata di tutti, è un gioco che veramente si intavola facilmente, si spiega nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora, si spiega con una prima partita, quindi proprio aperto, letto i regolamenti e tutto quanto. Forse alcune cose, è bene rileggerle un paio di volte, ma non perché le regole siano complicate, perché c'è questa meccanica qui, come vi ho detto, del rifornimento, che è carina, però va capita, a differenza di tanti altri giochi. Quindi è veramente, veramente interessante, che uno potrebbe pensare, eh ma io sono confinante con un'altra mia truppa, o un altro alleato, ci possa andare a costruire, no? Non ci può andare a costruire, perché magari non è rifornito. Oppure la posso mettere la nave qui? Sì, la posso mettere perché è in acqua, no? Ma non è in acqua, perché sulla sponda, non c'è una tua truppa, che ha conquistato un punto, e in più, quella truppa deve essere a sua volta connessa, a un punto di rifornimento. Quindi la nave lì non ci può stare. C'è da capire giustamente un pochino queste meccaniche, che però qui è proprio interrompere le linee di rifornimento, ed è una figata assurda. Quindi per me è promosso a pieni voti, veramente, è un gioco molto interessante, è un gioco veloce, ed un gioco anche molto strategico, e non lo giocate a cavolata, che a parte ragazzi anche Riziko stesso, era di una strategia disumana. Ma qui, c'è veramente tanto, tanto, tanto da pensare, e poi qui non c'è da tirare dadi. Qui c'è semplicemente da giocare alla carta, che dice, carta attacco, giocata quella carta, almeno che un giocatore non ti usi una controcarta, che ho scritto, la truppa non me la puoi ammazzare, e te la truppa gliela è uccisa. Quindi non c'è un tiro di dado, non è legata alla fortuna. Qui è legato, e per questo vi piace veramente alla vostra strategia. Anche perché una volta che avete finito il mazzo di carte, inizierete a perdere punti, e non le potete più rimescolare, è giocata senza carte in mano, quindi occhio, molto interessante, ringrazio anche una volta la Genos, per avermi offerto una copia, e ragazzi, se lo volete acquistare, dal primo link in descrizione, da Board Game Discount, nostro negozio collaboratore e sponsor, vi ricordo, al miglior prezzo sul mercato, in più, non lo volete pagare tutto insieme, lo potete pagare a rate, in tre rate, quindi, dividete il prezzo per tre, e una rata al mese, in più, se il gioco non è presente in lista, contattateli, e ditegli, scrivete al supporto, arrivo dal canale di Coridan, si può avere questo gioco, ve lo faranno avere, al miglior prezzo possibile, novità, hanno tolto le spese postali, su tutto, un gioco da 100, e un gioco da 20, non ci sono più spese postali, gratuite, in tutta Italia, più di così, numero uno, fatemi sapere cosa ne pensate, ciao ragazzi, alla prossima!